Tra i parametri presi in considerazione per la classificazione delle regioni ci sono l'indice di trasmissibilità R-T, che in Sicilia è 1,42, dunque sotto la soglia di allerta di 1,50, e l'incidenza di casi e gravità cliniche elevate, con pressione sostenuta per i dipartimenti di prevenzione e i servizi assistenziali, in cui un peso importante ha il tasso di occupazione dei posti di rianimazione, che nell'isola è oggi al 25,5%, ovvero sotto il 30% fissato come limite di guardia. I numeri della Sicilia dicono che ad oggi la regione è a cavallo tra lo scenario 2 e lo scenario 3, ma pare che l'orientamento del governo sia quello di collocare la regione nel livello più alto dei due. In questo caso le misure sarebbero molto restrittive e si tratta di divieto di ogni spostamento dalla regione, salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza, consentiti però gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita, e comunque il rientro nel proprio domicilio o nella propria residenza. Divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie, escluse menze e catering, consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio. A tutto questo si aggiungerebbe naturalmente il ritorno dell'autocertificazione.